ok veniamo facciamoci vedere con la faccia veniamo vicino ci siamo credi abbassati ok bene va bene allora vediamo se abbiamo finito tutti allora respirate un attimino respiriamo come è bello duro luca vedrai che adesso con mister pietro a settembre vedi come volate si lascia la guarda che c'era pres che voleva salutare volevo salutare i ragazzi complimenti bravissimi tutti grazie ciao poi grazie ciao anche ci siamo vai partiamo buona vai bravo gabo bravo thomas ok bravo matti bravo ricchi è dura e ricchi dai bravo 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 giulio e pietro siete capaci di fare questo dai partite forza diamo fatemi vedere facciamolo con un piede solo prima uno ecco così va bene va bene fede se non mi riesce subito non il braccio così più tesa sta corda tenete la tesa lorenzo lorenzo gira poco non preoccupatevi facciamo questo e andiamo su e su dai andiamo vicino alle braccia arrotola un po' la squadra ecco buona fermi adesso fermi su fermi su va bene ferma scioglierla un attimo ok e via ok buona sciogli adesso sciogli partite da qua giusto quando arrivate al primo cilesino è un percorso tutto a due esterno interno quindi vado arrivo e vado esterno poi vado verso fuori quando vado verso fuori devo rigirarmi e taglio con l'interno poi taglio con l'interno e rientro dentro giusto ve lo ricordate il disegno quando arriva proviamo vai a edo non ce l'ha edo tommy ti devi mettere come i cinesini come il disegno ti ricordi il disegno che ti ha mandato si adesso li metto li avevo preparati prima e poi li ho smontati perché ho il germino piccolino e non riuscivo a fare anche gli esercizi del mister villa ah ok la facciamo al contrario ok come avete fatto prima ve lo ricordate hop e la spostiamo bravo bravo bravi eh molto bene no bravi dai una finta alla volta ok Sasha com'è? perfetto eh adesso partiamo col piede sinistro chiaramente Giuseppe se l'ha fatto con il sinistro lo fa col destro via sinistro? sforzati col sinistro bravo bravo il papà chi è sto papà? che bravo si è allungato il riccardo lo vedo più alto si si il problema è che l'altro ieri è caduto col monopattino c'è il ginocchio destro che è gonfio come un'anguria infatti va piano perché gli fa male allora lo stesso lavoro lo facciamo col piede sinistro si passa torna indietro Simo bravo Simo ok va bene Giuseppe bravo Samu adesso di spalle Christian di spalle non girarti bravo bravo così mi piaci bravo dai più veloce più veloce bravo Ricky via stiamo da un lato Ricky o a destra o a sinistra non fare destra e sinistra vengo lì a fare respirazione bocca a bocca non mi offendo eh sempre in conduzione e palla lo slalom lo facciamo con la suola ok siamo pronti dai con la suola qui non voglio tanto la velocità tanto la coordinazione non dovete essere veloci piano piano Giuseppe non corre Ricky gli fa male mister ok vieni di fermarsi pure eh si ok adesso vediamo ok palle in mano e partiamo dai palleggio destro e sinistro in mano destro e sinistro in mano uno dai bravo Ale su Simo che tu sei bravo vai lascialo perdere noi lasciamo perché gli vado a far fare ghiaccio perché ha male si si va bene ci vediamo tra qualche due va bene provateci non fa niente se si sbaglia raga dai Nico fammi vedere Cri metti il giocchio eh la tutte e due bravissimo bravo Cri facciamo il saluto vicino allora ragazzi allora Naccari parti tu ti è piaciuto allenamento Sì eh visto tante cose nuove eh smarrone ti è piaciuto Thomas Sì oh ho girato il giro passiamo con Gabo Gabo ti è piaciuto allenamento Sì eh Silvestri Luca Sì tu Adam Sì bellissimo non vedevo non vedevo non vedo l'ora di iniziare bravo 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 Avondo com'è com'è stato Lori bello bello Ricky è bellissimo bravo 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 Matti com'è andata bene bellissimo allora ragazzi vi dico una cosa poi vi passo Pietro e beh è anche bello cambiare l'allenatore tutto per questo perché Pietro mi può insegnare tanto avete capito io io sono stato allievo di Pietro ero il secondo al Soccer con lui ho imparato tanto quindi avete visto quante cose nuove i numeri la suola tante cose che lui vi può dare ok io vi faccio un saluto tanto poi ci vediamo sempre che siamo qui sempre a dare una mano a Pietro e tutto a e a 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 Grazie a tutti